La strage del rifugio del Falco del 22 agosto 2007 non ha colpevoli, nessuna responsabilità, nessun reato scontato. È la triste considerazione dei familiari delle sei vittime di quel drammatico giorno sulle colline pattesi. Domani ricorre il decimo anniversario della tragedia del rifugio del Falco e come sempre a ricordare le vittime sarà l'osservatorio Lucia Natoli che ha preso il nome proprio da una delle persone morte nell'incendio. Da dieci anni l'osservatorio celebra la giornata del 22 agosto con l'obiettivo di rinnovare la memoria e sollecitare le pubbliche amministrazioni ad intervenire per quanto riguarda la prevenzione e la salvaguardia del territorio. Una campagna, quella contro i roghi, che purtroppo non ha mai avuto ragione di cessare visto la drammatica escalation di incendi che ancora oggi, ogni estate, con puntualità disarmante, continua a sversare la Sicilia. Domani le iniziative per il decimo anniversario della tragedia dell'agriturismo rifugio del Falco saranno ospitate nel centro Camelot diretto dal dottor Matteo Allone. Tra il gruppo Le Sentinelle dei Peloritani, nato sotto la sua spinta, scrivono gli organizzatori, si è creata immediatamente una convergente unità di intenti con l'osservatorio per i diritti dei giovani. Nella prima mattinata a Messina è prevista la partecipazione dei familiari di Lucia Natoli con interventi di tutti gli organizzatori dell'evento. Alle 12.30 il trasferimento presso l'area attrezzata di Zirio concessa dall'ufficio del territorio della regione siciliana. Sarà un momento di riflessione presso il Bosco dei Ricordi, dove cresce l'albero della speranza dedicato proprio a Lucia Natoli. Poi il consueto pranzo collettivo e benaugurante con tutti i partecipanti a difesa del patrimonio dei Peloritani. Grazie.